In questi ultimi due giorni c'è un gran parlare riguardo Valve, l'azienda di Gabe Newell proprietaria di Steam che a quanto pare sarebbe interessata a entrare nel mercato delle console. Sono stati trovati infatti dei nomi in codice all'interno delle versioni beta di Steam che si è visto fanno riferimento a una macchina non ben identificata che secondo una serie di indiscrezioni dovrebbe venire rilasciata entro la fine del 2021 e su cui in tanti hanno fatto degli approfondimenti tra cui i ragazzi di Ars Tecnica. Secondo le indiscrezioni questa console, questa macchina sarebbe appunto un dispositivo non molto diverso da Switch quindi si tratterebbe di una console portatile più o meno con uno schermo integrato basata su sistema operativo che sarebbe una variante di Linux e una CPU di AMD insieme a una GPU AMD. Secondo i rumor di Ars Tecnica questa macchina, questa console sarebbe tra l'altro collegabile attraverso un cavo USB tipo C a un monitor gaming quindi avremmo la possibilità esattamente come Switch di utilizzarla sia in variante handheld portatile che collegarla a un monitor per giocare in maniera un po' più tradizionale su uno schermo grande appunto. Ars Tecnica è appunto una fonte molto affidabile se andiamo a guardare la storia non è sicuramente la prima volta che Valve va a cimentarsi nel mondo dell'hardware. L'ha fatto tante volte in passato con tanti dispositivi che hanno avuto più o meno successo. Sicuramente quello che è andato meglio in assoluto è stato il visore Valve Index ma ci sono stati tanti altri esperimenti come possono essere stati ad esempio Steam Link, il controller di Steam dedicato appunto ai giocatori PC che volessero usare un gamepad per tutti i tipi di giochi PC quindi anche gli strategici gestionali e ovviamente anche le famigerate Steam Machine. Sappiamo che Valve dal punto di vista economico ha gli strumenti necessari per entrare nel mondo dell'hardware gaming quindi se vuole può lanciare una piattaforma, una macchina e andare a competere tranquillamente con aziende come Nintendo, Microsoft, Sony e compagnia. Sicuramente lo può fare meglio di quanto lo stia facendo attualmente Google con Stadia perché Valve dalla sua, oltre al discorso dei soldi, vabbè che sono quelli che sono, Valve conta su una infrastruttura molto solida che si è cementificata nel corso degli anni che è appunto Steam che è una piattaforma notevolmente superiore rispetto alle proposte online di Sony, Microsoft e Nintendo. Non c'è assolutamente paragone. Valve conta inoltre su esclusive importanti. Ricordiamoci che Valve è anche uno sviluppatore di software che quindi ha dalla sua dei titoli, dei nomi, delle P molto importanti all'interno del panorama come possono essere Portal, Half-Life ma anche Dota e tanti altri. Ci sono però dei dettagli importanti che non sono forse proprio dei dettagli e che è il caso di andare ad analizzare un pochino per ridimensionare la nostra visione di questa faccenda se si rivelasse vera. In primis Ars Technica parla di un lancio possibile e probabile entro la fine del 2021. Viene lecito secondo me a questo punto domandarsi come sia possibile lanciare sul mercato una nuova macchina, una nuova console o questa sorta di mini pc nel momento in cui ci troviamo perché oggi non ci sono componenti. Sappiamo che c'è una crisi enorme, gigantesca nel mercato dei semiconduttori. Sappiamo che le schede video per esempio mancano, non si riescono a produrre abbastanza numeri per soddisfare la domanda da parte del pubblico. Sappiamo che c'è una crisi che sta cominciando adesso ma è realistico e continui anche degli hard disk, delle unità di archiviazioni. In tanti fanno le loro previsioni riguardo le RAM e si aspettano una penuria di RAM, una mancanza di RAM per la fine di quest'anno che potrebbe andare a rallentare tantissimo anche il mercato degli smartphone. Nel frattempo abbiamo una situazione in cui né Sony né Microsoft riescono a produrre abbastanza console per soddisfare le richieste e attualmente comprare una macchina di corrente generazione come Xbox Series o PS5 è quantomeno difficile. Abbiamo detto poco fa che Valve ha già provato in passato a lanciarsi in tanti segmenti del mercato dell'hardware e nessuna delle volte in cui ci ha provato è riuscita a farlo in maniera vincente e convincente. Mi spiego. Valve Index che è un signor visore, un fantastico visore per la realtà virtuale, è estremamente costoso, è premium, tutto quello che volete, d'accordo, ma prima di essere premium, prima di essere costoso è anche introvabile. Valve Index non è un dispositivo che voi potete andare online e comprate con uno schiacco di dita. Non funziona così. Valve non è riuscita a spingere la produzione a livelli tali da riuscire a soddisfare la domanda. E problemi di questo tipo li ha avuti spesso. Se noi pensiamo al disastro che sono state le Steam Machine, che in realtà non sono state neanche un disastro, semplicemente si è trattato di un lancio fantasma, si è trattato di Valve che ha voluto convincerci del fatto che fossero queste sorte di macchine da gaming straordinarie, che alla fine nessuno ha visto, nessuno ha visto commercializzate, nessuno ne ha parlato, nessuno ha approfondito. Sono state qualcosa di cui si è soltanto discusso, parlato, qualcuno ha presentato qualcosa, ma a conti fatti nei negozi nessuno ha visto niente, nessuno ha comprato nulla. Cioè quanto è stato prodotto è stato del tutto insufficiente per riuscire a soddisfare una eventuale domanda, anche semplicemente per stare all'altezza di quelle che erano le promesse fatte da Valve. Tu non puoi sicuramente lanciare un prodotto sul mercato e aspettarti che venda da solo, perché ok, può anche succedere, ma di solito non succede. E se tu hai un budget a disposizione, una parte fondamentale della tua commercializzazione è il marketing e la maniera in cui tu cerchi di vendere il tuo prodotto. Nel caso di Valve Index il problema è stata la produzione, il problema è stato il fatto che il prodotto si vendeva da solo e Valve non è riuscita a fornirne abbastanza. Nel caso delle Steam Machine si è trattato invece di un lancio fantasma, quindi di nuovo Valve ha fallito nella maniera di comunicare lato marketing che cosa fossero queste Steam Machine, perché dovessimo comprarle, che cosa avessero di diverso rispetto ai normali PC da gaming. Valve non ha fatto il botto con il suo controller, che è stato un buon pad, ma non è stato niente di rivoluzionario o di straordinario, non è stato niente di migliore rispetto a un pad di Xbox 360 o a un normale controller di PlayStation. È un discorso simile, lo possiamo applicare anche a Steam Link, che ha avuto il suo perché, se vogliamo, ma non ha fatto qualcosa di particolare per cui tu non potessi raggiungere lo stesso risultato con un cavetto HDMI collegato alla tua TV. Cioè, Valve non è mai riuscita a penetrare in maniera aggressiva all'interno del mercato dell'hardware, da nessun punto di vista, per tante diverse mancanze. Una macchina portatile basata su Linux è in grado di far girare la libreria di Steam? Piace, è una gran figata, in teoria. Il punto è che oggi Valve non ha una grande credibilità per quanto riguarda l'hardware. Non si trova in una posizione molto diversa da quella di Google, dal mio punto di vista. Google ha fatto partire il discorso Stadia, d'accordo? Ma sapevamo benissimo che Google è una di quelle compagnie che lancia tante idee, 100 miliardi di idee, dopodiché tende a staccare spine e tende a non credere particolarmente nei propri progetti, semplicemente va a guardare come evolvono le situazioni. Con Stadia non ha mai spinto nella maniera in cui avrebbe potuto spingere, non lo sta facendo nemmeno adesso, e il fatto di rimuovere, di evitare, di cancellare lo sviluppo di esclusive first party è una botta ulteriore che va a sottolineare appunto questa gestione strana da parte di Google. Ecco, Valve non è molto diversa da Google secondo me per quanto riguarda la sua credibilità quando si parla di hardware. Ha prodotto quello che doveva produrre nel corso degli anni? Può continuare a produrre sicuramente, ma non ha un atteggiamento particolarmente aggressivo nei confronti del mercato. Non sembra avere le conoscenze alla base per riuscire a commercializzare un prodotto in maniera vincente. E questo oggi, in un momento in cui ci sono quattro competitor sul mercato, tutti molto ricchi, tutti particolarmente facoltosi e in grado di spendere un sacco di soldi nel gaming, diciamo che non depone molto bene a favore di Valve stessa. Io credo che ci sia spazio per un altro contendente nel mercato del gaming, in particolare perché si tratta di un'offerta sensibilmente diversa rispetto a quello che fanno i competitor. Il mercato PC appunto è molto diverso da quello console, quindi anche la tipologia di software, la tipologia di utente è diversa. Non sono però particolarmente fiducioso. Fatemi sapere comunque voi che cosa ne pensate, se ritenete che una console, piattaforma del genere, possa avere successo. La comprereste a 500 euro, una macchina che sicuramente sarebbe dal punto di vista tecnico inferiore rispetto a un PlayStation 5 e un Xbox Series X, dal punto di vista grafico prestazionale, ma avrebbe il vantaggio ovviamente dell'essere portatile. Fatemi sapere voi con i commenti qui sotto. Per questo aggiornamento intanto è tutto, qui sotto potete cliccare su una serie di link se volete supportare il nostro lavoro e noi ci risentiamo. Alla prossima!